Spaccata al negozio Golf 2.0 a Ponte Alto, i ladri nella notte in pochi minuti hanno fatto incetta di 220 paia di scarpe da golf delle migliori marche per un valore commerciale di 40.000 euro, nonché diversa attrezzatura per il green, in particolare ferri e bastoni. I ladri hanno rotto il vetro del magazzino, sono entrati, hanno fatto razzie e poi se ne sono andati, il tutto senza far scattare l'allarme che avevano provveduto a manomettere a quanto pare il pomeriggio prima. Al titolare accortosi del blitz dei ladri solo la mattina successiva non è rimasto altro che sporgere denuncia.